Parlare del Corsi del Duca per me significa parlare di come si insegue e di come si salva una passione. Io sono sempre stato appassionato di fantasy, di romanzi, fantasy e di giochi di ruolo. E così dopo anni passati a leggere svariati testi e passati a progettare campagne e a far giocare i miei amici, mi sono detto ma sì, perché non provo a scrivere un libro anch'io? Niente di più sbagliato ma all'epoca ovviamente non lo sapevo. Ci ho messo davvero tanto tempo e cinque anni davvero stressanti perché scrivevo, riscrivevo, cancellavo, le scene non riuscivano mai, tornavo sempre dietro alle stesse cose. E alla fine è arrivato alla conclusione del testo e almeno ho avuto l'intuizione di prima di proporre una casa editrice di cercare di autopubblicarmi, di rivolgermi a una persona competente che mi ha presentato un editor e questo editor però ovviamente ha demolito tutto il lavoro che io avevo fatto, giustamente demolito. Però lì ho iniziato a sentire parlare di scrittura immersive, quindi mi sono imbattuto nei corsi del Duca. Da prima ho fatto i corsi gratuiti, insomma il corso di scrittura, il corso di sceneggiatura gratuito e già lì mi sono accorto che la mia scrittura comunque stava migliorando. Quando provavo a scrivere mi veniva più facile e così mi sono convinto ad acquistare il corso di corsi avanzati. L'ho acquistato a inizio dicembre del 2022, quindi sono otto mesi che sono corsista. Se non ricordo male con l'opzione metti un piede nella porta e da lì insomma è iniziata questa avventura che mi sta portando a ritrovare il piacere di scrivere e anche a migliorare molto nella scrittura. Un corso tra i tanti che mi ha colpito, mi ha veramente colpito e di cui vorrei parlare è Il risveglio dello scrittore ribelle. Il risveglio dello scrittore ribelle parla fondamentalmente di passione, di perché bisognerebbe scrivere per passione, scrivere quello che ci piace, inseguire le nostre passioni, studiare quelle che sono le nostre passioni. Sembrano tutte cose banali, cose scontate, però finché qualcuno non te le sbatte in faccia davvero e il Duca lo sa fare in maniera molto simpatica e le diamo per scontate, le diamo per banali e in realtà non lo facciamo. Da quando mi sono approcciato a questo corso ho iniziato a prendere in mano tutte quelle che sono le mie passioni, la mia vera passione per il fantasy e ho iniziato a rileggere libri di stregoneria, libri di storia moderna, libri di storia medievale, libri di magia, storie di come la figura dei draghi influenza le varie culture, di come viene vista nelle varie culture. Tutte cose che però quando poi vado a scrivere un racconto, una scena fantasy, mi risultano utili perché poi le scene vengono naturali, sembrano nascere da sole e quindi tutto questo è importante, mi sono reso conto di quanto sia importante scrivere per passione, seguire le proprie passioni e scrivere di ciò che ti piace. Un altro corso tra i tanti di cui vorrei parlare è il Metodo Trave. Il Metodo Trave è secondo me veramente utilissimo, interessantissimo. Si impara velocemente, molto velocemente, si impara leggendo. Ora si presume che se a noi piace scrivere, se sei un aspirante scrittore, ti piace anche leggere. E impari leggendo dei testi, testi del collano Evaportepam, testi selezionati, testi interessantissimi che al di là dell'interesse specifico per quello che il romanzo racconta, ti insegnano come scrivere e ti insegnano come fare certe determinate cose al meglio e lo impari velocemente, e lo impari perché lo leggi, perché lo hai letto più volte e perché lo assorbi e tutto questo è veramente, veramente bello, interessante e anche divertente. Ultima cosa, ma secondo me per niente da sottovalutare, è tutto il tempo che il Ducca dedica ai suoi corsisti avanzati con tutto il materiale extra e con le live private. e le live private sono uno strumento importantissimo di confronto e che dà veramente un'opportunità di migliorare, un'opportunità di mettersi in gioco e sono tutto materiale extra, materiale gratuito, tempo extra che il Ducca dedica ai suoi corsisti. Quindi sì, se io devo dare un consiglio, consiglio assolutamente questo corso.